Buongiorno e ben trovati Grazie a questo nuovo appuntamento con Mattino 6 in questa giornata di festa, oggi 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, anche inizio delle festività natalizie con questo ponte che ci porterà verso il Natale, già le prime vacanze in questo weekend. Noi ci siamo con la rassegna stampa, allora iniziamo subito con la lettura dei quotidiani regionali, delle prime pagine dei giornali abruzzesi, iniziamo dal centro che già vedete alle mie spalle, nell'edizione di Pescara il titolo di apertura, aiuto mi molesta da 20 anni. E' questo il grido d'allarme lanciato da una professionista pescarese che ha denunciato alla polizia il suo stalker dopo un lungo calvario. Nel taglio alto i dati dell'Istat del terzo trimestre, l'Abruzzo recupera posti di lavoro ma crescono i precari e poi la sicurezza, autostrade abruzzesi, il TAR sblocca i fondi, sfila con Chieti, i medici a Pescara. L'ospedale di eccellenza per quanto riguarda la discussione, il dibattito sulla idea di secondo livello. Andiamo a vedere nelle cronache pescaresi, lutto in politica, domani funerali è morto l'ex assessore Giorgio D'Amico, è scomparso ieri mattina a Pescara per un malore nella sua casa del quartiere Coglia. All'età di 71 anni, Giorgio D'Amico, ex consigliere comunale, prima nelle file del Partito Socialista Italiano e poi con una lista civica. D'Amico, stimato chirurgo da tempo in pensione, aveva lavorato in diversi ospedali anche fuori Abruzzo, oltre che a quello di Pescara. La politica è in lutto, domani alle 10, funerali alla Basilica Madonna dei Sette Dolori. Andiamo a vedere le altre notizie. Pescara, prime misure del comune, termosifoni più bassi per ridurre lo smog, temperatura fissata a 18 gradi. Montesilvano scatta il daspurbano per le prostitute in strada. E poi insulti razzisti, 10 turni di stop, calcio, maxis qualifica a un giocatore del Casal Bordino. A centropagina troviamo invece lo sport di Serie B, i Biancazzurri oggi di scena a Cesena, il via alle 18. C'è la sfida con Castori, Zeman, Striglia, il Pescara. Questo è il titolo sulla fotografia dei due allenatori. Come detto, alle 18 il Pescara scende in campo allo stadio Monuzzi contro il Cesena di Castori, ex allenatore di Lanciano e Castelli Sangro. Zeman prova a scuotere i Biancazzurri, per ora non sono entrato nella testa dei giocatori, ma lavoro per cambiare la mentalità. Queste le parole del tecnico Boemo. Ovviamente vi ricordo che anche noi seguiremo la partita delle Pescara con Diretta Stadio, il collegamento con Cesena. In studio Andrea Costantini, il collegamento da Cesena, Paolo Renzetti. Andiamo a vedere di spalla le letture, l'intervista, il Mazzocchetti, il mio concerto di Natale. Poi gli itinerari in cammino verso la cima delle Murelle. Il massiccio della Maiella offre una varietà di ambienti unica, valli selvagge, verdi oppure sassose, sentieri, trapini, mughi, inestricabili oppure delineati da grotte, vette tonde, verdi o pietraie vere e proprie. Tra queste ultime la cima delle Murelle, 1.596 metri, è speciale e di rara bellezza. Andiamo a vedere nel taglio basso il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna. C'è un drone che scova chi lavora troppo. Passiamo adesso alla edizione di Teramo, restando sempre al quotidiano il centro, comune in mano al prefetto Pizzi. Questo è il titolo di apertura, vedete la fotografia della stretta di mano fra il commissario di governo e l'ex sindaco di Teramo. Il commissario arriva e detta subito la priorità, mettere a posto i conti dell'ente. Andiamo a vedere le altre notizie. Nelle cronache, il rettore replica Robin Hood, università, i migliori pagano meno tasse. L'associazione dei consumatori Robin Hood segnala le difficoltà di molte famiglie a pagare le rate delle tasse dell'Ateneo di Teramo, denunciando un aumento sostanziale della retta. Il rettore Luciano D'Amico replica che la politica seguita dall'università è quella di abbattere le tasse per gli studenti meritevoli fino all'azzeramento se appartenenti a fasce deboli e garantire il più possibile una equità contributiva. Ancora denunciato a Roseto, è un odonto tecnico ma faceva il dentista. Prevede 70 stabilizzazioni, Amadori c'è la bozza dell'integrativo. Questo per quanto riguarda l'edizione Teramana. Adesso passiamo a quella del Chietino. Il titolo di apertura, Megalo 2, il genio civile ora dice no. Il dirigente di Biase blocca l'avvio dei lavori. Il rischio allagamenti c'è ancora. E poi nelle cronache a Lanciano, forza il posto di blocco, ladro d'auto arrestato. L'inseguimento a tutta velocità sulla statale 16, il posto di blocco forzato e il tentativo di sperorare l'auto della postrada. Ma alla fine gli agenti del distaccamento di Lanciano arrestano un 24enne di Cerignola. Il giovane viaggiava su un Audi A3 rubato un'ora e mezza prima a Roseto insieme a un complice che è riuscito a fuggire a piedi nelle campagne e ora è ricercato nuovo colpo contro i pendolari dei furti. Le altre notizie. San Salvo gettano acido sulle tombe costruite dalla ditta rivale, poi i sindacati ex Carichieti. Ecco come si arrivò al crack. È stato redatto un libro bianco proprio su quanto accaduto alla Carichieti. Andiamo a centropagina nella fotonotizia. Castelfrentano indivisa con la Croce Rossa Riccardo, primo da un volontario del soccorso. Continuiamo con il quotidiano Il Centro. Resta da andare a vedere la prima pagina dell'edizione aquilana. Il titolo di apertura, la ZTE annuncia a gennaio 50 assunti. L'Aquila lavori quasi ultimati al tecnopolo per la sede della multinazionale cinese. Andiamo a vedere nelle cronache. Perché da Sulmona ha bruciata l'auto della figlia del magistrato Aura Scarsella. Torna in azione il piromane a un mese di distanza. Dall'ultimo episodio incendiario un'altra auto va a fuoco in via Pola. Questa volta però l'incendio che ha distrutto una C3 della Citroen potrebbe riflettere ombre inquietanti. L'autovettura data le fiamme appartiene a Giuditta Leone, la figlia del sostituto procuratore Scarsella. Un particolare questo che potrebbe aprire scenari diversi rispetto ai roghi precedenti. Da Vezzano le altre notizie. Marito della consigliera nello staff del sindaco e poi l'Aquila, bambina molestata, l'accusa vacilla. Andiamo a centropagina, Unione Europea, occasione di crescita. L'Aquila gozi chiude il forum Abruzzo, chiama Europa. A centropagine invece troviamo la fotonotizia che riguarda l'inaugurazione di ieri dei nuovi impianti. Il ministro dello sport scia a Roccaraso, si tratta di Luca Lotti, che vedete nella foto con il sindaco di Roccaraso di Donato, che ha sciato sulle montagne abruzzesi nel giorno dell'inaugurazione delle nuove cabinomie e dei moderni impianti di nevamento a Roccaraso. Il rappresentante del governo Gentiloni ha partecipato alla cerimonia. Lasciamo il quotidiano in centro, adesso andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Il titolo di apertura torna il lavoro ma è precario. Nel terzo trimestre dell'anno superata la soglia psicologica pre-crisi dei 500 mila occupati. Bene, l'Aquila e Pescara, Chieti rimane ancora al palo. Molti contratti sono a tempo determinato. Andiamo a leggere un estratto dell'articolo a pagina 43 di Saverio Chiuto. La soglia psicologica da superare era quella dei 500 mila occupati sotto la quale l'Abruzzo era sprofondato dopo la grande crisi del 2008. Un traguardo ha ciuffato dopo un decennio di lacrime e sangue, certificato dai dati dell'Istat dell'ultimo trimestre del 2017. I posti di lavoro sono 512 mila contro i 482 mila dello stesso periodo dello scorso anno. Ma il dato più significativo è che si è tornati a livello pre-crisi del 2008, quando gli occupati erano 515 mila. Un altro segnale di crescita dell'economia regionale che mette d'accordo quasi tutti, anche se alcuni problemi restano e riflettono un po' il disagio registrato nel resto del paese. Quando si parla di posti di lavoro, argomento peraltro cardissimo nella campagna elettorale. La Cisla Bruz è la prima a commentare positivamente gli ultimi dati. L'Istat dice che crescono finalmente i posti di lavoro dopo due trimestri problematici, anche se, come detto, molto spesso sono contratti a tempo determinato. Restiamo sempre nella pagina del messaggero. Lì degli ladri si calano con le corde dal tetto. Notizia che arriva da Giulianova. Un colpo udace e senza precedenti per la città, quello messo a segno nel supermercato. Un colpo spericolato, non riuscito in quanto la cassaforte che i malviventi volevano scassinare, ha resistito. Adesso andiamo a centropagina. Manganello, tifo e internet. La nuova destra, quattro sigle, almeno 80 militanti leader tenuti sotto controllo dalla polizia. Andiamo a vedere anche qui l'estratto dell'articolo a pagina 45 di Polo Mastri. Il battesimo del sangue, il 20 maggio, con la spedizione al circolo Archie Schum. Due frequentatori pestati, autori incastrati a distanza di tre mesi. Minacce e chiamate le armi, quante ne vuoi. A partire dall'intercettazione velata dell'inchiesta Aquila Nera. Io ho un sogno, prima o poi lo devo realizzare, sentire nell'aria l'odore di carne bruciata. Dice Stefano Manni, ex carabiniere di Montesilvano, considerato la mente xenofoba del gruppo neo-ordinovista ispirato a Rutiglio Sermonti, l'ultimo esponente della costola scolana del terrorismo nero. Andiamo a centropagina, invece troviamo la Serie B. Zeman sprona la squadra, oggi si gioca alle 18. Pescara in cerca del riscatto a Cesena. Oggi la partita contro la squadra di Castori, vecchia conoscenza del calcio abruzzese e soprattutto frentano. Andiamo di spalla, manutenzioni, il Tar del Lazio dà ragione a strada dei parchi. Il caso delle manutenzioni sulla autostrada che porta verso Roma, i giudici ordinano al governo trovare i fondi per sistemare la A24 e la A25. Andiamo nel taglio basso e troviamo Teramo, consiglio sciolto, Pizzi e il commissario, 64 anni, originario di Ascoli Piceno e il commissario scelto dal prefetto che guidera il comune di Teramo fino alle prossime elezioni. Ieri con una stretta di mano è avvenuto il passaggio delle consegne con l'ex sindaco Maurizio Brucchi. Pizzi, nominato dal prefetto Gabriella Patrizia, un curriculum di tutto rispetto al suo attivo. ha già vari incarichi commissariali in altri comuni come Chieti, Pescara, Campobasso e Venezia, Santa Maria Capovetere, Trevi, Matera e Gioia Tauro. Completiamo la lettura della prima pagina del messaggero con il taglio alto. Pescara, Giorgio D'Amico, medico e politico stroncato da un infarto a Sulmona, incendiata l'auto della figlia del procuratore Aura Scarsella e poi nuovi impianti. Il ministro Lottia Roccaraso, avete speso bene i soldi dell'Unione Europea, queste le parole, all'inaugurazione dei nuovi impianti sciistici. Andiamo sulla città adesso per completare la lettura delle prime pagine regionali. Il quotidiano della provincia di Teramo apre con la cronaca. Dentista abusivo nel centro estetico. La Guardia di Finanza scopre e denuncia un odonto tecnico in azione nello studio della moglie. A centro pagina invece vedete la foto del prefetto Luigi Pizzi, che è il nuovo commissario del Comune di Teramo dopo la caduta della giunta Brucchi, 64 anni, di Ascoli Piceno, come ricorda il giornale. A proposito della crisi politica al Comune di Teramo c'è l'editoriale del direttore Alessandro Misson, un'era tra due scatti. Andiamo a vedere sotto la fotonotizia. Dirigente a processo per truffa, Nereto, avrebbe intascato diritti di segreteria dei cittadini. Nel taglio alto il concorso della città. Scegli il sindaco della tua città, compilare i tagli e spedisci il coupon che trovate nel giornale. Poi la controversia, vi adotti sicuri, il TAR ordina di pagare Toto per sistemare a 24 e a 25 di spalla. La bufera sul Gran Sasso, i no socks, sono asini raglianti. Così, Paravicini ha descritto chi sta criticando l'esperimento SOX, c'è il botte e risposta tra i massimi vertici del laboratorio del Gran Sasso e le associazioni ambientaliste abruzzesi. A Roseto, articolo 1, frena gli entusiasmi del PD e poi polemiche sui costi, tasse dell'Università di Teramo. Chi è il vero Robin Hood? Andiamo a vedere nel taglio basso il Teramo con la Serie C che riprenderà a giocare in questo weekend. Il Teramo non può fallire, con il Fano bisogna vincere. Poi la proposta dei tifosi, il Palasca intitolato a Tino Pellegrini. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato al Nazionale. Partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo di apertura è questo qui. Renzi più solo, non mi fermo. Centrosinistra, la minoranza DEM pronta a chiedergli un passo indietro al Fano. AP a rischio scissione. Il leader del PD dice che l'alleanza si farà, prodi, non sempre le frittate riescono bene. Andiamo a vedere a centropagina la prima della scala ieri. Scala un trionfo di coppia. Nebrezco e Iazov, 11 minuti di applausi per l'Andrea Chenier che è andato in scena ieri alla prima della scala di Milano. Andiamo a vedere le altre notizie. Effetto Trump. Hamas chiama all'entifada Gerusalemme. Tensione e scontri. Decine di feriti. Torna appunto la tensione in Medio Oriente. A seguito delle dichiarazioni di Donald Trump, del presidente americano, che ha dichiarato Gerusalemme capitale di Israele, scatenando così di nuovo le tensioni in quella zona già molto tribolata. Andiamo a vedere quest'altra notizia. Il nipote purificatore che uccideva con il taglio tre vittime e cinque tentati omicidi voleva sterminare la famiglia. Notizia che arriva da Monza. Andiamo a vedere anche il caso Dell'Utri. Dell'Utri mi lascio morire. In carcere rifiuta il cibo e le cure. L'ex senatore di Forza Italia. Voglio lasciarmi morire in cella. La protesta dopo il no dei giudici alla scarcerazione e una sentenza di morte ha commentato. Ora la Repubblica, il titolo principale riguarda le tensioni in Medio Oriente, la nuova intifada per Gerusalemme. Trump scatena la rivolta palestinese a Gaza e in Cisgiordania. E poi la politica interna, il governo sui gruppi nazi, sospensione d'urgenza. Blitz Repubblica, ottenunce, domani il corteo a Como, raggi, Movimento 5 Stelle e antifascista. Andiamo a vedere la stampa, anche qui il titolo di apertura. L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, così il Cremlinio interferì nel referendum italiano l'accusa di Biden. Mosca sostiene Lega e Movimento 5 Stelle. Nel centrodestra Berlusconi pensa a Calenda Premier per le larghe intese. Calenda è l'attuale ministro dello sviluppo economico. Andiamo a vedere le altre notizie. La denuncia degli studenti, una su tre non è a norma, le scuole al freddo. Il titolo della stampa su questa inchiesta sulle scuole. E poi c'è il reportage, rivolta palestinese e Gerusalemme, sognando Erdogan. Andiamo sul Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico e finanziario italiano. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Basilea 4, stretta soft sui rischi delle banche. Draghi è una pietra miliare che rende il quadro più robusto, compromesso per le nuove regole sui modelli interni e capitale. Nessun cenno ai titoli di Stato, appunto gli accordi, i vari Basilea 1, 2, 3 e 4 sono accordi e regole che riguardano l'intermediazione bancaria. È un po' tutto il sistema che regola il credito. Andiamo a vedere le altre notizie. La rivoluzione digitale, Censys, sviluppatore web, il profilo più richiesto. Mancano 60.000 tecnici per lanciare il lavoro. 4.0 i dati dell'Istat, 303.000 occupati in più con i contratti a termine. A centro pagina troviamo la prima della scala. Grande successo per l'Andrea Chenier. E poi, altra notizia, pagamenti della pubblica amministrazione e bocciatura dell'Unione Europea. In Italia ritardi sistematici. Continuiamo con il fatto quotidiano. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Scandali di sesso e potere. Il giudice e il sindaco. Uno decadrà dal Consiglio di Stato. L'altro resta. La giustizia amministrativa vuole sperre del Consigliere Bellomo. Vessazioni verso allievi e allievi dei corsi d'esame per la magistratura. Il CSM. Gli atti anche su un altro togato. Gli sms che inguaiano Palazzi. Il primo cittadino di Mantova. Sei birichina. Ti scolaccerei. Credo che tu stia proprio bene messa a 90 da me dopo il tuo messaggio di ieri. Questi appunto i messaggi incriminati. Andiamo a vedere l'anniversario della Thyssen. Dieci anni dopo. Svolta dopo le proteste morti della Thyssen alla fine Berlino. Chiede l'arresto del colpevole. A centro pagina ancora il caso Boschi. Boschi in lista lontano da Arezzo. Intanto alla scala entra dal retro. Paracadute. I senza voti vicini al Giglio Magico non correranno a casa loro. Andiamo sul manifesto. Il titolo sulla fotografia effetto Trump. I palestinesi rispondono nelle piazze al riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele. Decine di arresti e centinaia di feriti. Lo sciopero generale paralizza i territori. Oggi venerdì di preghiera e rabbia. ANP sotto pressione. Hamas chiama alla terza intifada. Nel taglio alto ritroviamo i dati dell'Istat. Boom del lavoro a termine. 2,8 milioni di persone mai così tante dal 92. La disoccupazione è stabile. Il messaggero ora. Renzi in panne spinta di Prodi. Il professore sprona il PD dopo l'addio di Alfano e Pisapia. Il processo va avanti per il bene del paese. Il segretario dei democratici. Saremo in campo con liste di centro e sinistra. AP sull'orlo della scissione. A centro pagina il caos in Medio Oriente. Gerusalemme, ritorno dell'intifada. Razzi su Israele, scontri nei territori. L'annuncio di Trump sulla capitale blindato il venerdì di preghiera. Molti analisti hanno letto questa uscita di Trump come una volontà di rafforzare la posizione dell'unica democrazia che c'è in quella zona. Cioè quella di Israele nei confronti di Iran e Arabia. Saudita. Andiamo avanti. Bomba anarchica per i carabinieri. Paura e nessun ferito. Roma. Ordigno esplode all'alba davanti alla porta di una caserma. Siamo tornati. Colpiremo ancora. Andiamo sul quotidiano Il Tempo. In prima pagina. Occupa metà della pagina. Il caso Dell'Utri. Pena di morte. Dell'Utri resta in cella. Vergognosa decisione del Tribunale che nega la scarcerazione. L'ex senatore gravemente malato annuncia lo sciopero della fame e il rifiuto delle cure. E poi Presidente Mattarella gli dia la grazia. Ha questa la richiesta del Tempo perché il Capo dello Stato ha il dovere di mettere fine a questa persecuzione. Diamo su Libero restando ai quotidiani di centrodestra. La sinistra elegge Mussolini all'uomo dell'anno. Il nemico è ancora il duce. In mancanza di argomenti attuali e idee sensate i compagni inventano un allarme fascismo per riportare alle urne il loro popolo. 12 fessi di forza nuova li aiutano ma le vere emergenze in Italia sono economia e immigrazione. Il Capo della Polizia ha più grave il blitz dei Camerati a Repubblica della bomba ai carabinieri. Andiamo ancora avanti sulla verità. Ancora quotidiani di centrodestra. Renzi ha seppellito tutti i leader della sinistra. Vai avanti Becchino. Questo è l'articolo di Belpietro. E poi a centropagina siamo diventati importatori di malattie. Dalla TBC alla scabbia alla malaria. Come difendersi dalle patologie che tornano in Italia con i migranti. Il secolo d'Italia. Il titolo di apertura. Eccolo qui. Senza pace. Un'ondata di scontri tra manifestanze e forze israeliane. Sta infiammando i territori palestinesi all'indomani della decisione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Nel taglio basso. In primo piano. Le altre notizie. Un ordigno nella capitale. Si batte la pista anarchica. Poi i terremoti. Un'altra beffa. Casette fredde con i topi per quanto riguarda il soccorso ai terremotati. E poi gli italiani leggono di più bene i piccoli e medi editori. Andiamo a vedere anche avvenire. Il quotidiano cattolico. Il titolo di apertura. In terra dei fuochi. E ancora emergenza. Un'indagine dell'istituto zooprofilattico. Parla di 33 ettari contaminati su 50 mila. Restano i danni ambientali e per la salute. Coltivazioni sotto controllo. Ma c'è il record di tumori nell'area della terra dei fuochi. Siamo in Campania. E poi a centropagina la fotonotizia su quanto sta accadendo in Medio Oriente. Proclamata l'intifada. Gerusalemme. 160 feriti rivolta di Hamas dopo l'annuncio di Trump sul riconoscimento della capitale di Israele. Gerusalemme. Andiamo sul secolo XIX. Anche qui il titolo di apertura. Alleanze necessarie al PD. Ovviamente siamo alla politica. Intervista Orlando. Provare fino all'ultimo con Pisapia. Io ci credo. Il guardasigilli invita alla ripresa del dialogo. Giobacti. Il governo va sotto. E poi anche qui a centropagina la fotonotizia su Gerusalemme. Hamas chiama all'intifada. Scontri tra palestinesi ed esercito nei territori e a Gaza. Arresti e feriti. Altra notizia. La decisione dell'UNESCO. La pizza diventa patrimonio dell'umanità. In Italia c'è ancora del buono. Scrive il secolo XIX. Andiamo su il mattino. E notizia che abbiamo anticipato. Proprio quella della pizza è un'arte. Il riconoscimento dell'UNESCO a Napoli. Il mestiere di pizzaiolo. Patrimonio dell'umanità. Tradizione unica al mondo. E poi il titolo invece principale. Torna l'incubo dell'intifada. Hamas invita a una nuova rivolta. Razzi su Gaza. Israele. Replica dopo la mossa di Trump. Scontri nei territori occupati tra palestinesi ed esercito. Più di cento i feriti. Troviamo anche la politica. Il PD in cerca di alleati. Prodi ci crede ancora. L'ex premier Pisapia non era cosa. Così Prodi che è anche il fondatore dell'Ulivo Prima. E tra i principali artefici del Partito Democratico. Andiamo a vedere insieme adesso i quotidiani sportivi nazionali. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. La foto che vedete riguarda Icardi. Juve a noi due. Il titolo, il ruggito di Icardi carica l'Inter. Siamo pronti. Affronteremo la Juventus con intelligenza. Il nostro scudetto è arrivare in Champions. Poi se siamo là Spalletti è forte del mercato. Parla Vanda. Io a Milano sto bene. Questo è un po' il riassunto di quanto detto da Icardi. E poi il rivale bianconero, ecco il Pipita, vero antidivo. Allo stadium sarà battaglia. Iguain fuori dal campo è molto riservato. Pochi amici, i soliti ristoranti. La barba se la fa tagliare a casa. Quella con l'Inter non sarà una sfida fra me e Mauro. Di spalla invece troviamo la crisi sempre più profonda del Milan. Gattuso crolla con il Reika. Cosa accade dopo il no UEFA? Vi raccontiamo i possibili scenari. Si riunisce la Commissione. Bocciatura scontata. Corsa per rimborsare il fondo Elliot. E poi l'Atalanta, la Dea nella storia. Batte Lione prima nel Girone. Lazio sconfitta che non fa male. E questo per quanto riguarda l'Europa League. E poi il premio consegnato a Parigi. Ronaldo e il quinto pallone d'oro raggiunto Messi. Buffon quarto in giugno per Gigi. La partita d'addio con la nazionale a Torino o a Parma. Passiamo al Corriere dello Sport. Rivince la Juve. Il titolo sui giocatori che si abbracciano. Gli italiani vedono ancora Allegri favorito per lo Scudetto. Proprio davanti ai Nerazzurri. Poi c'è il Napoli. E domani c'è la super sfida alle 20.45. Juve-Inter. Il duello. I Guain contro i Cardi. Nessuno come loro. Andiamo a vedere anche tutto sport. Il titolo chiaramente è sulla partita del weekend. Partita mondiale. Domani Juve-Inter. I Guaini Cardi. Sfida Scudetto. Ma vale anche per un posto nella nazionale argentina. Messi vota per il Pipite. Uno dei migliori al mondo. In Russia deve esserci. Nel taglio alto l'Europa League. Povero diavolo. Che sberle. Arreiche a figuracce del Milan che perde 2-0. Mentre arrivano i pessimi segnali sul fronte del voluntary agreement. La UEFA smentisce di aver già preso una decisione negativa. Ma Fassone ammette da loro richieste impossibili. Supera Atalanta. Batte anche il Lione 1-0. Ed è prima del girone. Lazio-KO in Belgio per 3-2. Di spalla il Torino. Il mercato è in bidico. Proprio come Mijailovic. E poi la garanzia è Sirigu. Che merita la nazionale. Nel taglio basso Euro 2020. All'Olimpico di Roma. La gara inaugurale per l'Europeo. Che si disputerà in maniera itinerante in tutta Europa. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Poi torniamo con la seconda parte della rassegna stampa. Per approfondire le notizie della nostra regione. Intanto andiamo a vedere le previsioni del tempo con Meteo 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie della nostra regione. Lo facciamo aprendo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Il centro in primo piano pone i dati dell'Istat sul terzo trimestre. Cosa raccontano? L'Abruzzo recupera occupazione. Il numero degli addetti sale 512.000 con un tasso di disoccupazione che scende al 9,6%. Ma c'è troppo precariato. Il commento del segretario della CISL Marandra. Potrà spingere sulla riforma dei servizi del lavoro e il consiglio del sindacalista. Andiamo a vedere anche questa infografica. Numero degli occupati nel terzo trimestre. Tasso di disoccupazione. Vedete come si è riusciti ad arrivare quasi al livello pre-crisi del 2008. Nel taglio basso invece, cambiando argomento, un commissario per il super ospedale lo chiede la consulta per la sanità. Il DEA di secondo livello deve stare a Pescara pronti ad occupare l'assessorato. Andiamo a vedere invece sul messaggero il titolo che riguarda e quindi l'articolo che riguarda i dati dell'Istat. Il lavoro ritorna a crescere ma non è stabile. Si sveglia l'occupazione, superata la soglia psicologica dei 500 mila impiegati. La CISL frutto della ripresa. Molti contratti non sono stabili. C'è il commento riportato dal messaggero dell'assessore al bilancio Paolucci. Nuovi posti con il masterplan, così l'assessore regionale. Andiamo a vedere le altre notizie. Proseguendo sul quotidiano Il Centro. Nella pagina Abruzzo, terremoto e sicurezza, autostrade, il TAR sblocca i fondi. Sì, a ricorso di strada dei parchi. Il governo ha 15 giorni per vessare i 57 milioni. Salva Cantieri. A centro pagina, la tragedia di Ligopiano. No all'acquisizione delle mail. La Cassazione respinge il ricorso del sindaco di Farindola, Elario Lacchetta. La Cassazione ha detto no al ricorso presentato dai difensori del comune di Farindola e del sindaco contro la decisione dello scorso 5 luglio con la quale il GIP di Pescara aveva negato l'accesso alle mail e a tutto il materiale documentale sulla prevenzione delle valanghe della regione Abruzzo. Andiamo ad aprire la pagina di Pescara. Restando al quotidiano Il Centro. Mi perseguita da 20 anni. Aiutatemi. Stalker denunciato. Messaggi, dispetti, danni all'auto, incursioni in ufficio. La professionista pescarese esasperata. Si rivolge alla polizia. Andiamo a vedere anche l'apertura di Pescara sul messaggero. Il titolo Internet è Manganello e la nuova destra. Quattro sigle della galassia estrema attiva in città. Gli 80 militanti e i leader storici tenuti sotto stretto controllo dagli investigatori. Il pestaggio al circolo Schum e manifestazioni anti-immigrati tra le uscite recenti, ma nel passato il blitz contro il lesito Stormfront. Casa Pount, Audere Semper, Forza Nuove, riprendiamoci Montesilvano. Ecco capi e imprese. Andiamo a vedere ancora sul messaggero. Sempre dalle cronache di Pescara. Giorgio D'Amico stroncato da un infarto. L'esponente socialista era al telefono ieri mattina quando è stato colto da un malore il cordoglio della politica cittadina. Il consigliere comunale dagli anni 90 e assessore nel 2003 ha sfiorato il salto alla Camera. Ed è stato un bravo medico. D'Ambrosi e Padovano piangono l'amico di tante battaglie. I funerali si svolgeranno alla Madonna dei Sette Dolori domani. Ancora decolle in ritardo e proteste. Oggi i test sul liquido anti-ghiaccio. Aeroporto nel caos. Saga ha ottenuto il prodotto per il de-icing, ma va verificato. Foschi chiede la testa dei vertici. Completiamo la lettura delle notizie di Pescara sul messaggero. Per seguita una donna per 20 anni. Stalker allontanato. Notizie che abbiamo già visto in apertura sul quotidiano Il Centro. Anche qui troviamo Rigopiano. I mail nascosti. No della Cassazione a ricorso del sindaco Lacchetta. Dichiarato inammissibile. Reclamo per l'accesso negato agli atti sulla prevenzione. Torniamo sul quotidiano Il Centro. E completiamo la lettura delle notizie tra le pagine di Pescara. Addio ad amico, decano dei socialisti, medico chirurgo. 71 anni da tempo in pensione. Stato assessore e consigliere comunale. Domani alle 10 i funerali. Termosifoni a 18 gradi per abbattere lo smog. Nuovo vertice in comune sul problema delle polveri che hanno superato i limiti. Di Carlo. In arrivo regole di comportamento antinquinamento per i cittadini. E poi le altre notizie dal comune. Tra cui preleviamo questa che riguarda un'iniziativa della lista Teodoro. Riduzione della taria e i negozi che donano cibi ai poveri. Che donano cibi ai poveri. Questa è l'iniziativa portata avanti da Pier Nicola Teodoro e Massimiliano Pignoli. Della lista Scegli Pescara Teodoro. Che ha avuto anche il patrocinio così amichevole di Gianfranco Semproni. Noto opinionista sportivo che commenta soprattutto il Pescara. e noi andiamo a vedere il servizio di Paolo Renzetti. Teodoro presenterete nel prossimo consiglio un'importante delibera per quanto riguarda gli esercizi commerciali che aiutano le persone bisognose. Voi proponete uno sconto sul pagamento della taria. Le attività commerciali che vorranno partecipare potranno avere un beneficio fino a 200 euro annui di agevolazioni sui costi della taria. Questo a fronte di quale servizio? A fronte di un servizio da dare in collaborazione con le associazioni umanitarie associazioni che sono presenti sul territorio che aiutano le famiglie più bisognose. Abbiamo messo in piedi un progetto che al Comune ha un costo pari a zero ricadente per ogni cittadino parliamo all'incirca di un centesimo ma sicuramente questo progetto potrà aiutare qualcuno ipotizzato fino a 5.000 famiglie ma nella obiettività vera, col risultato vero parliamo di 1.500-2.000 famiglie bisognose nella nostra città. Consigliere Pignoli il vostro auspicio è che questa delibera possa avere il consenso unanime dell'Aula? Quando ci sono queste delibere poi la politica deve fare un passo indietro e deve invece farne 10 avanti il sociale per cui spero e penso ma sono sicuro che tutta l'Aula a prescindere dalla maggioranza opposizione destra, sinistra, centro possa accogliere favorevolmente questa iniziativa. Iniziativa che ha un padrino particolare? Sì, io e il collega Teodoro abbiamo voluto che questa delibera fosse battezzata da Gianfranco Sembroni noto conduttore sportivo di una locale emittente perché anche all'interno dello sport lui spesso anzi parla sempre di sociale e per cui abbiamo lo invitato ieri sera, proprio ieri pomeriggio proprio in ultimo e lui prontamente è intervenuto qui e ci ha onorato dalla sua presenza che lo ringraziamo pubblicamente. Gianfranco Sembroni, è importante essere sempre al fianco degli ultimi anche perché gli ultimi dati dell'Istat dicono che purtroppo anche in Abruzzo aumenta il numero dei nuovi poveri. Mi auguro vivamente che questa delibera possa andare avanti nel vero senso della parola e che possa essere utile a tante persone che hanno tanto bisogno. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro, ponte tra shopping e spettacoli, tre giorni di festa con bus navetta, mascotte, sfilate di moda, risate e musica dal centro a Porta Nuova per quanto riguarda Pescara e poi c'è l'iniziativa di poste italiane e cassette speciali per imbucare le letterine dirette a Babbo Natale. Ancora altre notizie, caratteri illegibili, giudici annulla il contratto e le bollette, sentenza a favore di un consumatore e poi sospensione per le festività natalizie, stop ai lavori sulla Tiburtina. Ancora oggi l'addio al bambino è eseguita l'autopsia, rientrata a Bolognano la Salma di Luca e concerti di core natalizi nella chiesa di Sant'Andrea. Proseguiamo con le altre notizie. Torrente Lavino a rischio, sequestrato il depuratore blitz dei carabinieri forestali a San Valentino dopo un anno di indagini, indagato in qualità di gestore dell'impianto anche il primo cittadino Saia. La protesta, ridotto il numero di pannoloni e traverse per anziani allettati, protesta che arriva dal nostro collega Dario Di Sabatino che ha segnalato appunto questi disservizi. Andiamo nel taglio alto, tragedia in via Lago di Capestrano, si accascia in strada e muore a 51 anni. Ancora l'operazione della polizia, sequestro di botti, pericolosi e multe. Nel taglio basso torna il presepe in casa Londrillo. Andiamo ad aprire la pagina di Montesilvano. Lotta alla prostituzione da Spurbano nel Mirino anche le Lucciole. La polizia locale applica le prime misure di allontanamento dalle città previste dal Ministero dell'Interno a novembre. Multe per 9.500 euro ai clienti. Proseguiamo con le pagine dell'area metropolitana. Tanta musica e arte nelle feste angolane. Scusate, ecco la passeggiata nel borgo tra i sapori di Natale. Parte il cartellone degli eventi lungo un mese. Chiusura all'Epifania. Pianella. Questa sera le luci sull'albero più alto piantato. 62 anni fa. Ancora dall'area metropolitana andiamo a Francavilla. Luciani e Candeloro è tornata la pace. Sindaco e Presidente si stringono la mano grazie all'intercessione dei tifosi che hanno organizzato questo incontro a sorpresa in un bar. Ma domenica si giocherà comunque all'Aragona di Vasto anche se sembrano superate le divergenze dei giorni scorsi. Il Comune ha annunciato anche rimborsi per le società sportive fino con un fondo di 20.000 euro con un bando che sarà esplicato nei prossimi giorni. Andiamo nella pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara. Ponti, strade, tunnel rovinati dal sisma. Arrivano 6 milioni. Finanziati i progetti della provincia per le strade pericolose. A Castiglione, a Casauri, a Rocca Morice, Santofemia e Vicoli. Ora apriamo la pagina dell'Aquila. Partiamo da una notizia di cronaca che arriva da Sulmona. Attentato all'auto della figlia del PM. Distrutta la Citroen C3 di Giuditta Leone si indaga su eventuali collegamenti tra il rogo e il lavoro della scarsella. Questa la notizia di cronaca. Vedete l'auto incendiata nella fotografia. E poi Lotti scia sulla neve d'Abruzzo. Roccaraso, il ministro, all'inaugurazione delle impianti aprono nuove cabinovie. Andiamo a vedere la pagina dell'Aquila anche sul messaggero. Uffici pubblici tutti contro tutti. Cialente al veleno sul demanio. L'ex sindaco replica le accuse di Reggi. Volevano costruire ecco perché mi attacca. L'accordo per il riuso degli immobili ha provocato una profondissima spaccatura. E poi Roccaraso. Lotti lancia Roccaraso nell'Olimpo. Inaugurati ieri dal ministro le nuove cabinovie e il sistema di innevamento programmato che è il più grande in Italia. Spingo l'Abruzzo ad andare oltre. Non vi fermate perché quella di oggi segna una grandissima vittoria istituzionale. Così il ministro dello sport. Noi su questa inaugurazione invece andiamo ad ascoltare il presidente della regione D'Alfonso. In principio qui abbiamo avuto delle idee di valore, delle personalità del sistema delle imprese, amministratori capaci di decisione e di coraggio. Poi la macchina pubblica, compresa quella regionale e nazionale, hanno messo le risorse importanti. Qui abbiamo veicolato oltre 30 milioni di euro di investimenti per fare in modo che si mettesse in cantiere questa grande officina delle realizzazioni e dei potenziamenti per l'economia della neve, per l'economia del turismo. Devo ringraziare i comuni interessati, il comune capofila, Roccaraso, Castel di Sangro, i comuni della cintura. Devo ringraziare gli imprenditori che dall'inizio hanno saputo scommettere e avere coraggio. Qui vengono un milione di persone di più di quelle che arrivano in Abruzzo attraverso l'aeroporto. Attraverso questa bellissima realtà turistica della nostra montagna, noi riusciamo come abruzzesi ad essere immaginabili, desiderabili. Siamo pensati anche a migliaia e migliaia di chilometri di distanza. Flaiano diceva che non abbiamo sempre le basiliche di cui avremmo bisogno. Ecco, queste montagne, donateci da Dio, ci permettono di avere quelle basiliche che cercavamo, ma adesso con la mano dell'uomo abbiamo reso questa realtà una straordinaria piattaforma di attrazione turistica ed economica. Andiamo nelle pagine di Chieti, adesso sul Quotidiano Il Centro, grande distribuzione, Megalo 2, ora il Genio Civile dice di no. Lettera del dirigente di Biase allo stato attuale. non è presente alcuna certificazione del superamento del rischio idraulico. Questi veti incrociati di regione comune, il Genio Civile fa marcia indietro e arriva dunque lo stop al progetto di Megalo 2. E poi Confcommercio benedice lo stop ai lavori. Direttore e Presidente chiedono un consiglio regionale straordinario sulla crisi dei piccoli negozi. Nel taglio basso, acido sulle tombe della ditta concorrente, a San Salvo gettavano sostanze corrosive sui loculi, denunciati due lavoratori di aziende rivali. Torniamo sul messaggero, anche qui nelle pagine di Chieti. Partiamo dalle banche. Carichieti a febbraio, via l'ultima insegna, resta solo il logo Ubi, il crepuscolo raccontato dai sindacati con un libro bianco pubblicato su internet. Trivelli, un tesoro da un miliardo sottratto al territorio. 12 filiali destinate a chiudere nel palazzo della Colonnetta solo due direzioni territoriali al posto degli attuali 170 addetti. Vediamo insieme il servizio. Quali sono i motivi di questa conferenza stampa? Questa mattina si parla della nuova banca di UbiBanca, del gruppo bancario nato dalle ceneri di Carichieti. Diciamo che è un lavoro che mette un punto fermo sulla storia e su come si è arrivati a questa evoluzione. La Carichieti era l'ultima banca presente autonoma sul territorio bruzzese e quindi siamo stati così bravi da perdere anche quella. Grazie a una gestione non proprio appropriata se vogliamo, oltre ad altre questioni che troverete poi nel libro online che abbiamo fatto in questo lavoro, appunto per rimarcare che ci sono delle responsabilità che vanno trovate perché questa è una situazione che va a documento sia del territorio, sia di colleghe, sia della clientela. Dal 26 di febbraio Carichieti, oggi Banca Tatina non esisterà più, si chiuderanno 12 sportelli. Però questo lavoro è un lavoro più che altro per fare il punto fermo sulla storia, su quanto è accaduto perché è importante che ci sia memoria storica. Ci sono in questo libro che è in rete, l'abbiamo voluto costruire così proprio per dare la possibilità a tutti di farsi una idea di quanto è accaduto. Documenti giornalistici, documenti sindacali, c'è il documento della Banca Italia in cui si potranno trovare tutto ciò che è accaduto in questa banca e si capisce in sette anni come è stato distrutto un grande patrimonio della nostra regione. Sindacati critici su quello che è stato in Carichieti fino ad oggi, si parla anche di futuro. Siete preoccupati per le prospettive oppure il futuro è positivo per l'ex Carichieti? Il futuro è positivo però ci saranno molti cambiamenti da affrontare perché arriva una nuova banca, una nuova mentalità e dobbiamo adeguarci a queste nuove situazioni tenendo presente anche il fatto che unendo delle banche insieme con delle sovrapposizioni sui territori ci saranno anche un po' problemi di esuberi. Quindi bisognerà affrontare queste situazioni, le stiamo già affrontando in Banca Marche, in Banca Etruria e le stiamo affrontando nella maniera migliore possibile, quindi nella maniera più morbida per quanto riguarda i lavoratori. Proseguiamo con la lettura del messaggero. Nelle pagine della provincia, giro di vite sulle discariche abusive, vertice alla Ecolan con Di Giuseppe Antoni e Muratelli, linea dura con le sollecitazioni del prefetto Corona. Il fenomeno sta diventando un'emergenza ambientale che in Frentane rischia di costare molto ai contribuenti. Chiesto di istituire più controlli con fototrappole e ispettori abilitati a multare gli incivili. E poi lutto in casa Gian Cristoforo, casa del nostro collega Marcello, a cui ovviamente vanno le più sentite condoglianze della redazione per la perdita del Papa Nino. Andiamo adesso su Teramo, apriamo il quotidiano Il Centro. Nella pagina dedicata appunto a Teramo e provincia c'è la svolta in comune con l'arrivo del commissario nel capoluogo e Pizzi, prima di tutto i conti, queste le sue prime parole, arriva in contra per tre ore Brucchi che gli indica priorità e problemi. I tempi sono stretti per varare bilancio e consuntivo e c'è da affrontare l'emergenza terremoto. In agenda anche la questione della Tercop che rischia di perdere l'affidamento dei parcheggi in centro. Nel taglio basso Ateneo, tasse più alte ma non per i migliori. L'associazione Robin Hood accusa il rettore, i redditi bassi sono esentati per gli altri, contano i voti e quindi il rendimento nel percorso universitario. Anche in apertura della pagina di Teramo sul messaggero troviamo l'arrivo del commissario prefettizio con la nomina di Pizzi, stretta di mano e passaggio ufficiale delle consegne con l'ex sindaco Brucchi, ha 64 anni, laureato in giurisprudenza a Teramo ed è originario di Ascoli Piceno. Ha raccontato, venivo in pullman per seguire le elezioni, mi sento investito di una responsabilità importante in una città in questo momento in difficoltà soprattutto per i problemi legati al dopo terremoto. Carenza di personale, stop alle aspettative, l'altra notizia, un medico si è rivolto al tribunale perché si sentirebbe ostaggio dell'azienda. Nel taglio basso, tornando invece alle questioni che riguardano la crisi in comune, Berardini, occhio al bilancio, area di predissesto per quanto riguarda il documento economico e finanziario del comune. Poi dalla provincia, i ladri si calano dal tetto del Lidl, gang di incappucciati, ha sfondato il soffitto con delle mazze e poi è scesa con delle corde direttamente nell'ufficio del direttore. Nella cassaforte, tre giorni di incassi, ma è scattato l'allarme e così la banda è dovuta fuggire senza poter prendere nulla. Andiamo sulla città, a vedere le notizie sempre dal Terramano. Teramo dà il benvenuto al commissario, Luigi Pizzi, escolano di 64 anni, da ieri mattina e alla guida dell'amministrazione comunale. Ordinario e straordinario, dopo aver incontrato l'ex sindaco e il prefetto, incontrerà gli ex assessori e gli ex capigruppo consigliari. Proseguiamo, folla all'addio del dottor Dante, colleghi, amici e parenti stretti nel dolore della famiglia dell'ex primario di malattie infettive. E poi il progetto Teramo 2020 presentato a Milano, il dossier Teramano per la candidatura a Capitale della Cultura, discusso all'Università Cattolica. Ancora, non voterà mai un candidato a scatola chiusa, Milton Di Sabatino non ci sta a passare come traditore del sindaco, non aveva più la maggioranza, così l'ex presidente del Consiglio Comunale. Andiamo avanti, il palazzetto dello sport intitolato a Tino Pellegrini. La proposta di un gruppo di tifosi del basket inizia a farsi strada, subito raccolta dal Teramo Basket 1960. La polemica sulle tasse all'Università di Teramo, chi è il vero Robin Hood? Botta e risposta tra associazione consumatori e Ateneo sul costo delle iscrizioni e i criteri di esenzione. in provincia bufera sugli asini raglianti di Pallavicini. Le parole dure del padre di Sox su Facebook scatenano la reazione di utenti ed ambientalisti. La proposta di De Santis, le nostre battaglie le abbiamo vinte con gli argomenti, con i dati, con le leggi, senza ricorrere agli insulti nei confronti dei nostri interlocutori. Se necessario siamo andati in piazza come vuole la democrazia. Ecco il post di Marco Pallavicini perché si può vincere o perdere ma non rinunciare a combattere gli asini raglianti. Andiamo a Nereto adesso. Dipendente comunale a processo per truffa avrebbe intascato soldi versati per i diritti di segreteria a una decina i cittadini che avrebbero dato soldi al dirigente confidando nella sua buona fede. Da Giulianova un nuovo villaggio per l'emergenza a casa è presentato agli amministratori il piano industriale della Giulianova Patrimonio, gli altri interventi, ristrutturazione del cursale del mercato coperto, ampliamento del cimitero e sala per la cremazione. E poi il cartellone con polemiche sugli eventi natalizi di Giulianova, Costantini e Vasanella attaccano il sindaco sulle scelte sulle luminarie a carico dei commercianti. Altra notizia dalle pagine di Roseto Pineto a Tre Silvi, da Roseto studio dentistico nel centro estetico, donto tecnico denunciato per esercizio abusivo della professione. Andiamo adesso sul quotidiano, anzi torniamo sul quotidiano il centro, vediamo le pagine dedicate allo sport, partiamo dalla Serie B, Cesena Pescara, Zeman non sono entrato nella testa dei giocatori, il tecnico, ci portiamo dietro delle barriere mentali dal torneo di Serie A, questa è la frase ad effetto della conferenza stampa di ieri tradizionale pre-gara, in campo alle 18 i Biancazzurri, l'allenatore dice serve maggiore coraggio e noi andiamo a vedere proprio la conferenza stampa di Zeman ad ascoltare le sue parole. Purtroppo noi abbiamo queste barriere mentali, non lo so se ci riportiamo dall'anno scorso di Serie A che si aspettava di prendere gol e si rimasti sempre chiusi senza cercare di fare il calcio nostro. Le mentalità io cerco di cambiarla, insisto, bisogna giocarsela, bisogna cercare di essere sempre attivi anche perché penso che noi a centrocampo non siamo male, avanti non siamo male e dietro abbiamo difetti. E lì il problema di nuovo di mentalità, noi giocavamo a vincere e poi si poteva anche perdere, questa squadra ancora non ce l'ha di giocare, di entrare in campo e dire noi ci dobbiamo passare di sopra, noi spesso anche su partite vinte perché noi abbiamo perso 9 punti così, ci accontentiamo che abbiamo fatto benino e poi ci ritiriamo e è normale che se ti ritiri dai possibilità alla squadra anche mentalmente che ci dai sensazione che ce la possono fare. Quella squadra invece non dava mai sensazione all'avversario che ce la possono fare. La Becci Senna è una squadra che a parte classifica però hanno fatto tanti risultati utili ultimamente. È una squadra che lotta, che lotta, magari gioca poco, costruisce poco però lotta su ogni pallone, fisicamente dietro il centrocampo ci sono, davanti gioca solo in questo momento il hollow e dietro la ribiche, è sempre giocatore difficile da prendere. Una squadra corta verso dietro che aspetta l'avversario, poi ripeto come fisicamente sono messi bene e poi cercano di ripartire. Il problema è quando li facciamo ripartire. Vabbè Castori per me è una parte che mi piace come persona anche se qualche squalifica la presa perché dice quello che pensa. Le sue squadre erano sempre quelle, visto che non aveva mai una squadra da primi posti. Lui imposta la squadra in modo migliore per la squadra, per la società. Penso che è ottenuto sempre quasi massimo da quello che poteva fare. Allora andiamo a vedere le probabili formazioni di questo pomeriggio. Ricordo fischio di inizio alle ore 18, arbitra Nasca di Bari allo stadio Manuzzi di Cesena. Pescara con il 4-3-3 consueto di Zeman, Fiorillo in porta, la linea 4 di difesa, Mazzotta, Coda, Fornasiere e Zampano, poi a centrocampo Brugman, Carraro e Valzania, davanti Benali, Pettinari e Mancuso. Il Cesena si dovrebbe schierare con il 4-4-1-1 di Castori. Fulignati in porta, Don Corr, Esposito, Scognamiglio e Perticone in difesa, Fazzi, Cone, Di Noia e Dalmonte a centrocampo, Jallov di punta a supporto del centroavanti Laribi. Andiamo a vedere le altre notizie per il Pescara. Brugman firma fino al 2022 in difesa a Coda e Mazzotta. Abbiamo già visto da Pescara previsti 466 tifosi. E poi altra notizia di Serie B, Cosmi e il nuovo tecnico dell'Ascoli, il vice e Bazzani. La scelta è caduta appunto sull'ex allenatore anche del Pescara. Andiamo a vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport, sempre sulla partita di questo pomeriggio. Cesena per riscattarci, mister Zeman sentenzia, le prime della classe hanno solo più esperienze e concentrazione, start alle ore 18. Il Cesena è una formazione molto fisica, lo abbiamo ascoltato Zeman elogiare le qualità della squadra di Castori. Mister Castori che cercherà di festeggiare la nipotina. Andiamo a vedere le altre notizie sul messaggero. La Serie C Teramo Asta torna all'antico. Nel match di domani contro la Cenerentola Fano, il tecnico intenzionato a riproporre il vecchio modulo. Certa l'assenza di Amadio, mentre Varas dovrebbe occupare il ruolo naturale di Mezzala. Tanti dubbi anche per l'attacco. Tulli recuperato, Foggio Barbuti e Baccio Terracino. Rebus per due maglie. Vediamo il titolo della città sul quotidiano. Il C, sul quotidiano appunto la città, il titolo sul Teramo. Il Teramo non può fallire con il Fano. Deve vincere. Asta potrebbe affidarsi al 3-5-2 con Ilari provato nel ruolo di play. Oggi la rifinitura per limare gli ultimi dubbi. Tulli in, Amadio out. Come era nelle previsioni, ieri è tornato ad allenarsi l'attaccante che potrebbe partire dal primo minuto. Fuori causa il centrocampista. Per lui se ne riparla con la Reggiana. Andiamo a vedere anche il titolo sul quotidiano. Il centro, sempre sul Teramo. L'ex Ferrani ho sbagliato a lasciare il Teramo. Il difensore del Fano domani alle ore 16.30 tornerà ad avversario al Bonolis. Al di là di come finirà la partita, spero che entrambe le squadre si salvino. Proseguiamo sul quotidiano. Il centro, stop per insulti razzisti. Mucci, solo un equivoco. L'attaccante del Casarbordino, squadra di promozione, squalificato per dieci giornate. Il calciatore chiede scusa per la reazione, ma non ha usato frasi discriminatorie. Per la Serie D, Rivoluzione San Nicolò, Bianche Gori, arriva Cannella in porta. Il Pineto prende dal Magdalica. Il terzino sinistro, Veroni. Il Capistrello non libera Clas per l'Avezzano. Francavilla-San Giustese si giocherà domenica all'Aragona di Vasto. Andiamo a vedere le altre notizie sul quotidiano. Il centro, Super Drigo all'Amatore, il derby con il Giulianova. Partita finita 76-78 per il basket di Bilal. È devastante. I pescaresi di Raio le spugliano il Palacastrum. I giallorossi lottano con ardore, ma non riescono ad evitare la quinta sconfitta di fila. E poi un consorzio di imprese per sostenere il Roseto. Andiamo a vedere ancora il basket. Con Teramo non bastano cuore e orgoglio per battere Sansevero. Partita terminata 53-55. Poi Campli senza Ponziani cade a Bisceglie. Partita finita 69-53. Andiamo a completare anche la lettura delle pagine dello sport del Messaggero. Il basket, Sharks a mani vuote, ma non dominati per quanto riguarda l'A2. C'era poco da fare contro la capolista di Bonaventura. Usciti a testa alta, però Trieste è proprio forte. Andiamo a vedere di spalla la Serie D. L'Aquila in attesa del 13 si parla anche di mercato. Trepidante attesa fino al 13 dicembre, perché in quella data si capirà se l'attuale proprietà dell'Aquila Calcio ha intenzione di rispettare gli impegni o meno. Questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Io vi auguro un buon proseguimento di questa giornata di festa. Per quanto riguarda mattino 6, torna domani mattina alle ore 8. Il nostro telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23 come di consueto. Ma oggi pomeriggio c'è anche l'appuntamento con Diretta Stadio per seguire insieme la partita del Pescara a Cesena. In studio Andrea Costantini, in diretta da Cesena. Paolo Renzetti è davvero tutto. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a tutti.